Quindi partiamo dalla R e pronunciamo la parola radio, radio. Questo per capire che se si dice veloce bisogna fare attenzione a non mangiarsi le ultime lettere, le ultime vocali della parola. Buongiorno ragazzi! Può essere buongiorno ragazzi, può essere buongiorno ragazzi, ma non può essere buongiorno ragazzi. Proviamo! Buongiorno ragazzi! Si inizia lentamente e suona tantissimo impostato, ma piano piano si arriva a una pronuncia naturale. Buongiorno ragazzi! Buongiorno ragazzi! Dovete provare mentre parlate normalmente con i vostri amici e ricordarvi di non parlare mai in apnea, ma di prendere sempre fiato prima di aprire la bocca. Questo vi permette anche di pensare. Allora, quando si parla, per esempio Max, che ha tanta esperienza, ma secondo me è proprio portato di suo, improvvisa, è un improvvisatore. Ci sono persone che nei tempi ristretti scrivono la traccia di quello che vogliono dire. Questo permette loro di non divagare e di rimanere nei tempi. La traccia o anche tutto, però dipende dalle persone. Ognuno è libero di avere un po' il suo modo, il suo sistema. Ma l'improvvisatore deve poter pensare. Quindi anche quei momenti in cui si respira, sono i momenti in cui si pensa a quello che si sta per dire. Noi non dobbiamo diventare dei palloni gonfiati quando parliamo. Noi dobbiamo avere sazietà d'aria, stare bene. Quindi quel minimo di respirazione che ci serve per riacquistare tonicità di voce, tenere il torace ben aperto, sempre perché questo avvenga in modo veloce, con i micro respiri, inudibili, che ci aiutano a essere molto fluidi nel parlare, nel linguaggio e anche ci danno la possibilità di pensare un attimo a quello che stiamo per dire. Nei tempi brevi questo salva la vita. Bene, volevo fare un'altra cosa, ve la propongo. Praticamente nel parlare noi utilizziamo delle frasi, sapete benissimo che le frasi assumono un significato diverso in base all'accento e all'enfasi che diamo una parola piuttosto che all'altra. Quindi vi faccio questo esempio, ho scritto questa frase, ho scritto prima perché se no non mi sarebbe mai venuta in mente così adesso d'amblè e ho scritto Parliamo adesso di un artista italiano conosciuto in tutto il mondo. Frase lunga, frase piena di insidie. Proviamo a dirla lentamente. Parliamo adesso, voi, di un artista italiano conosciuto in tutto il mondo. Iniziamo a mettere l'accento sull'aspetto temporale, parliamo adesso. Quindi tutto il resto della frase dovrà essere leggermente più spiccio, più veloce e detto con un tono un pochino più basso, ma si deve udire. Quindi importantissimo il respiro. Inspiriamo. Parliamo adesso di un artista italiano conosciuto in tutto il mondo. Poi Invece ora vogliamo mettere l'accento sul fatto che questo artista sia un artista italiano. Quindi cosa diciamo? Parliamo adesso di un artista italiano conosciuto in tutto il mondo. Ora proviamo a enfatizzare solo il fatto che sia italiano e non un artista italiano. Parliamo adesso di un artista italiano conosciuto in tutto il mondo. Vi accorgete che rallento quando dico italiano? Enfatizzo e rallento, ma il resto è veloce. E deve essere comprensibile. Ora, enfatizziamo il fatto che sia conosciuto in tutto il mondo? Parliamo adesso di un artista italiano conosciuto in tutto il mondo. Voi. E invece adesso vogliamo dire che il mondo è proprio tutto. Che in tutto il mondo è conosciuto. Cosa diciamo? Parliamo adesso di un artista italiano conosciuto in tutto il mondo. E ogni volta... Però scusate, fate voi. E ogni volta abbiamo dato un significato diverso. La nostra capacità di comunicazione è di essere molto precisi nel pronunciare tutte le vocali e le consonanti, tutte le parole, riacquisendo una naturalezza. Quindi, anche nel decidere che cosa vogliamo enfatizzare del discorso, anche se molto breve, noi stiamo già comunicando qualche cosa. Quindi, questo aiuta molto, sia per la sintesi che per sottolineare come tutte le frasi che hanno minore importanza, che sono un corollario a quello, a quello più importante, debbano comunque essere comprensibili e sempre ben pronunciate. E sempre sul fiato. Lavoriamo un secondo sull'aspetto poi più interpretativo della voce, del far capire alcune cose, di far trasmettere alcune cose. Prima di tutto, e qua ritorno a... Mi rimetto a Max Parisi perché io più di tanto su questo non posso esprimermi. Però, parlando, siamo arrivati a una conclusione, in un certo senso. Chi lavora in radio, ovviamente, sa di fare un lavoro meraviglioso, però non è che tutti i giorni siano uguali. E quindi, non puoi avere sempre lo stesso umore, lo stesso... e l'umore della persona si sente nella voce. Quindi, seppur essendo abbastanza consentito lasciar trasparire un po' del proprio umore della giornata, in realtà, però, bisogna comunque entrare nella propria bolla magica, come il cantante che si concentra e che entra nella sua parte. E quindi, inizia e diventa riconoscibile. Altrimenti, uno potrebbe cambiare voce tutti i giorni. Vi garantisco che un sorriso, piuttosto che un broncio, piuttosto che anche proprio un tono dell'umore basso, quindi sentirsi proprio mosci così, cambia completamente il timbro della voce e, se tu lavori in radio, non è che questo possa essere tanto accettabile. Logico che bisogna avere, diciamo, una base vocale sempre ben solida e poi, a quel punto, può trasparire anche l'aspetto così umorale del giorno, dello speaker radiofonico. Allora, per, però, lavorare sulla timbrica della voce, normalmente si consigliano di fare un leggero sorriso, ma, come dicevamo all'inizio, se uno non è capace ad articolare, inizia a sorridere forzatamente, non si capisce più niente di quello che dice. Quindi, anche lì, il cercare di fare delle facce e di esercitare i zigomi, l'apertura della bocca, aprire e chiudere gli occhi, perché anche il far ridere gli occhi è molto importante, no? Uno non se ne rende conto, ma facendo ridere gli occhi, cambia il timbro della propria voce, modifica la posizione del vero palatino, si aprono dei risuonatori all'interno che rendono la voce più squillante. Quindi, sì, la risata, ma la risata è più degli occhi che della faccia. Un lieve sorriso e una risata degli occhi. Io faccio un altro tipo di lavoro, invece, qua, adesso, ed è quello di farvi pensare che ci possono essere due tipi di voci che noi utilizziamo, un po' per lavorare anche sull'onda della voce, no? Per riuscire a muoversi un pochino meglio sulle inflessioni un po' più acute, un po' più gravi. Mentre si parla, si fa, no? E quindi più è mossa la voce e più è dinamica, no? Questo può aiutare molto. Bene, io per esercitare questa cosa dico, ricordatevi che c'è una differenza tra il suono del parlato, sempre con il torace aperto, e il suono della memoria. Nel senso, pensiamo a cosa, a come suona la nostra voce quando stiamo ricordando qualcosa. Dunque, sì, mi sembra di ricordare che, ecco, questi sono suoni già un po' più posizionati indietro, nel velo palatino, e sono un po' simili a quelli dell'effetto dico. Adesso, facciamo una prova. Diciamo sempre, diciamo questa frase, non riesco a ricordarmi che cosa stavo facendo. Proviamo a farlo. Non riesco a ricordarmi che cosa stavo facendo. Girate anche gli occhi, come se stessimo cercando nella memoria. Non riesco a ricordarmi che cosa stavo facendo. Proviamo a dirlo senza pensare a quello che stiamo dicendo, e cerchiamo di pronunciarlo come se stessimo presentando una canzone. Non riesco a ricordarmi che cosa stavo dicendo. Quando noi lavoriamo in questo modo, riusciamo a capire la differenza. Quindi, possiamo muoverci su diversi toni della nostra voce in modo molto libero. Proviamo a fare questa cosa. Di nuovo. Non riesco a ricordare che cosa stavo dicendo. Memoria. Voce piena. Non riesco a ricordare che cosa stavo dicendo. Provate a rifare tutti gli esercizi che abbiamo fatto come se stessi ricordando qualcosa. Panica. Etere. È un esercizio pazzesco per allenare i diversi toni della voce. Infine, la stessa cosa si può fare pensando all'effetto eco. L'effetto eco è quello che tu hai quando sei in montagna e dici Ciao! E poi senti Ciao! Sentito? Ciao! Questo è l'effetto eco. Proviamo. Ciao! Ciao! È possibile che la voce si spezzi un pochino facendo l'effetto eco. E allora respiriamo bene perché non l'abbiamo fatto se la voce si è spezzata. Riproviamo. Hey! Hey! Amica! Amica! Provateli uno dopo l'altro, immacinatevi la montagna che vi risponde. Voi siete la montagna. Cosa avevamo detto? Etere! 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 Se voi provate... Adesso io sto parlando con quella voce. Non è che sia una cosa così stampalata. Non è una voce stranissima. Ma serve per pronunciare bene quella frase che avevamo detto. Parliamo adesso di un artista italiano conosciuto. Con questo tipo di voce riusciamo comunque a avere una bella risonanza di suono. Però senza che sia forte come l'altro. E possiamo dare più enfasi a una parola piuttosto che a un'altra. Facciamolo ancora con... Indici! Quello che si dice sempre in montagna, arrivi in alto. Indici! E ti risponde... Indici! Fantastico. Orto! Orto! Unicum! Unicum! E provate anche a fare quell'esercizio di... Parliamo adesso di un artista italiano conosciuto in tutto il mondo. Con gli diversi accenti. Ovviamente la zona accentata va detta con la voce più piena. Mentre l'altra con l'effetto eco. Quindi, parliamo adesso di un artista italiano conosciuto in tutto il mondo. Questa apertura ci aiuta ad articolare meglio. Parliamo adesso di un artista italiano conosciuto in tutto il mondo. Parliamo adesso di un artista italiano conosciuto in tutto il mondo. Non è difficile. Provateci. E poi ditemi un po' come va. D'accordo? Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, non dimenticatevi di mettermi un like, di condividere e di iscrivervi al mio canale. Vi saluto. Buon speakeraggio a tutti. Buon canto a tutti. Ciao!